Buonasera, questa sera abbiamo presenti due interpreti, Luca Falbo e Sara Pranovi. Questa sera interpreteranno l'intervista con Ida Collu. Abbiamo colto l'occasione per far sì che le informazioni arrivino a tutte, anche agli udenti che non conoscono la lingua dei segni, perché il fatto che sia presenti da Collu è un'occasione d'oro, dato che è una donna con tantissimi impegni di vario genere, impegni istituzionali, ma una donna impegnata anche dal punto di vista legale per i bisogni delle persone sorde. È vero che in realtà lei è in pensione, ma ha continuato comunque a dimanere impegnata in questo campo, perché ama l'ambito politico, l'ambito legale e in verità ha anche una vita privata, personale. Quindi questa sera io voglio cogliere l'occasione d'oro di averla come ospite. Ida, sei pronta? Eccola! Buonasera, Ida Collu. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Io voglio spiegare un pochino come mai ci sono appunto due interpreti. Dato che nel momento del lavoro lavorerà soltanto un interprete, mentre l'altro sarà a riposo, dopodiché verrà fatto un cambio. In quel momento servirà un po' di pazienza, perché verrà spenta la webcam, di modo che possa avvenire il cambio tra i due interpreti. Dato che voglio che l'interpretariato sia di qualità. Benissimo, adesso Luca, puoi uscire, rimarrà soltanto Sara. Benissimo, Sara sei pronta? Perfetto. Ida, ti saresti mai immaginata nel mio studio di psicoterapia sul lettino? In realtà adesso il lettino non c'è. Dal vivo sarebbe stato diverso, però tu prova ad immaginarlo lo stesso. Io voglio chiederti innanzitutto di parlare di te. Sì. Quindi questa è la prima domanda. Allora, io vorrei esprimere un po' i miei pensieri, le mie emozioni che continuano ad essere vive con l'andare del tempo. Posso dire che io voglio chiaramente continuare con la mia vita. In primo luogo voglio ringraziarti Mauro, ma no, grazie a te. Grazie, perché sei stato un mio allievo, io ti ho visto crescere, ti ho sempre seguito e ho visto che sei diventato uno psicologo. Io sono molto orgogliosa di questo. Quindi grazie per avermi invitato, visto perché ti sei laureato e hai preso un dottorato. Insomma, è tutto molto bello. E una volta non succedeva questo. Non c'era nulla di simile. Bisognava lottare con le unghie e con i denti, qui per prendere un diploma, per avere un riconoscimento delle proprie capacità. E quindi essere riuscito a laurearsi rende l'accessibilità un po' più facile. Per quanto riguarda la mia vita, rispetto alla situazione attuale, non è possibile fare un confronto. Perché ai miei tempi tutto era estremamente difficile. Io sono cresciuta e posso dire che nella mia famiglia sono tutti udenti. Io sono l'unica sorda. Tra tutti i fratelli, le sorelle. Perché noi eravamo in undici, caspita, sì, in undici, otto maschi. E tre femmine. Tutti udenti. Tutti. Sì, tutti. Io sono l'unica sorda. E mia mamma viene da una famiglia contadina. Molto semplice. E non si può dire che lei fosse ignorante, ma semplice. Perché appunto viveva in un paesino piccolo. E quindi quando sono nata io, la figlia sorda, hanno provato a farmi frequentare la scuola pubblica. Ma io non capivo. E quindi sono stati costretti, diciamo, a mandarmi in istituto, all'istituto per i sordi, a Cagliari. E lì mi hanno insegnato. E ai tempi si pensava che appunto fosse una scuola speciale. Ma in realtà non era così. Venivamo presi a bacchettate sulle mani. Guai utilizzare la lingua dei segni. Dovevamo sempre utilizzare il labiale. Devo dire che io ho avuto un vantaggio. Perché io non sono nata sorda. Lo sono diventata a cinque anni. Per una meningite. E quindi non ho avuto perdite dal punto di vista dello sviluppo del linguaggio. E devo ringraziare molto anche la scuola speciale di questo. Perché mi ha insegnato l'italiano. Mi ha insegnato la storia. Mi ha insegnato tantissime materie che poi sono diventate delle passioni per me. E che quindi io poi ho, diciamo, sfruttato per costruire una mia filosofia personale. Tutto grazie all'italiano, quindi. Quindi nella scuola sono cresciuta, sono maturata. Dopodiché ho frequentato le medie a Roma, sempre insieme ai sordi. E poi invece alle scuole superiori, in una scuola di udenti. Ed è stato faticosissimo. Perché immaginate, una sorda in mezzo ad una scuola di udenti. Dicevano, ma no, ma vai via, ma vai in istituto. Invece io mi sono impuntata, sono voluta rimanere. La mia famiglia invece era stanca. Era stanca perché mi dicevano che dovevano continuare ad andare avanti e indietro. E io dovevo lavorare. E invece no, io volevo studiare. Io volevo continuare per questo percorso. E quindi per me è stata un po' come una fuga, possiamo dire. Anche perché ai tempi noi venivamo etichettati come disabili. E quindi io a quel tempo invece ho continuato a studiare. E questa è stata la mia vita. Una vita piena di lotte. Una lotta che non finisce mai. E una lotta combattuta con il dolore, con il sangue. Grazie. Grazie Ida. Voglio continuare con un'altra domanda. Un argomento assolutamente scollegato dall'ultimo che abbiamo toccato. Io vorrei ascoltare un tuo sogno. Un sogno che tu ti ricordi. Se per favore me lo puoi raccontare. Un tuo sogno personale. Va bene? Va bene? Quando io ero giovane mi piaceva tantissimo ballare. Ma mi piaceva veramente tanto. Non so se ti ricordi. Può essere che tu conosca i miei amici. Che sanno che io ho sempre avuto questa passione. Io continuavo a ballare in continuazione. Quindi io sognavo di diventare una ballerina. E il fatto che io fossi sorda per me non importava. Io sentivo le vibrazioni. E quindi riuscivo a ballare. E poi in realtà per tutte le difficoltà date dalla crescita, dalla maturazione personale, le esperienze di vita, mi hanno fatto cambiare percorso ed entrare in politica. Bene, questa sera a me piacerebbe farti una domanda relativa a Renato Pigliacampo. Possiamo dire che sia stato il primo sordo psicologo in Italia, quantomeno all'epoca. Adesso in realtà ci sono anche io, ma anche altri psicologi sordi. Invece all'epoca lui era l'unico. Quindi volevo chiederti, potresti raccontarci qualcosa relativamente al vostro primo incontro, le emozioni che hai provato, come vi siete incontrati, come è stato. Perché lui non l'ha mai raccontato. Purtroppo è morto per una malattia. Quindi, per favore, dimmi. Sì. Renato Pigliacampo, io l'ho conosciuto in ambito, possiamo dire, politico. Dopo ci siamo incontrati anche a Lenzo successivamente. Io ero giovanissima all'epoca e già ero entrata nell'ambito politico perché a me piaceva tantissimo. Ero estremamente curiosa. Ero una grande combattente. Ed ero molto critica. E Pigliacampo era proprio così. Era un uomo molto polemico, molto forte. E quindi lui era di sinistra e anch'io, io ero socialista. E quindi abbiamo iniziato a parlare. Io ero rimasta un attimino scioccata perché lui era laureato e già era responsabile in dirigente all'interno di ENS all'epoca. E quindi, quando l'ho visto, ho pensato che lui aveva proprio una vena politica, polemica, ed era anche molto colto. E quindi poi, appunto, ci siamo incontrati all'interno dell'associazione. E abbiamo iniziato a discutere. Volevamo risolvere le difficoltà che incontravano le persone per quanto riguardava il lavoro, la passione. Quindi abbiamo iniziato, appunto, a discutere. Ma soprattutto, all'epoca, i dirigenti dell'ENS erano principalmente udenti. All'epoca era così. E Pigliacampo era abbastanza allergico a questa situazione. Non accettava il fatto che gli udenti fossero a capo. E quindi c'erano state diverse discussioni ai tempi. Perché i sordi, forti, colti, c'erano. Soltanto che il potere andava principalmente agli udenti. Anche il segretario, per esempio. E quindi, all'epoca, l'ENS era un ente pubblico. E la maggioranza era composta da udenti. Gli udenti erano dipendenti, dirigenti. E quindi dovevano occuparsi anche delle varie difficoltà delle persone. Il problema è che noi sordi eravamo pochi. Il fatto che l'ENS fosse pubblico comportava anche questo. E quindi noi eravamo iniziati dei malumori. Perché comunque c'erano delle mancanze, c'erano delle polemiche. C'erano anche dei servizi che mancavano. E quindi noi abbiamo iniziato a confrontarci su questi temi. Ed è nata un'amicizia molto profonda. C'era una sorta di feeling tra di noi su questi temi. Ma in realtà noi abbiamo anche litigato molto, continuamente. Però l'amicizia era un'amicizia di ferro, molto duratura. Costruita come un balletto, possiamo dire. Nel corso del tempo. E l'amicizia e questo percorso sono andati avanti fino alla sua morte. Lui non è morto di una malattia in realtà. Possiamo dire che lui si è morto un po' all'improvviso. Per un malore improvviso. E lui aveva provato tra l'altro ad impiantarsi. Perché lui voleva vedere sulla sua pelle quali fossero le sensazioni provate con un impianto. e gli ho detto ma perché lo fai? E lui mi aveva risposto così perché lui voleva provare. Voleva provare l'esperienza sulla sua pelle dell'impianto. Lui voleva provare a sentire. E lui aveva sofferto tantissimo. Ma lui era veramente coraggioso. E lui aveva sofferto di acufeni, continui acufeni. Quindi con l'impianto sembrava che gli acufeni fossero spariti. Però in realtà poi è arrivato questo male improvviso che l'ha portato via improvvisamente. Diciamo che c'è stato un genio in meno. Una persona importante in meno. Di cui io sento grandemente la mancanza. Perché c'è bisogno di persone come lui con cui discutere. Possiamo dire che lui fosse una persona strana. Ma molto appassionato, molto esuberante, molto polemico. Molto rompiscatole talvolta. Ma un grande amico. Quindi possiamo dire che io ero all'oscuro di questa parte del racconto della vostra amicizia. Quindi grazie di averla raccontata perché adesso inizio a capire tanti eventi concatenati nel tempo. Lui diceva sempre ai tempi, quando io ero giovanissimo, quando io studiavo psicologia, lui ripeteva sempre che io ero suo discepolo. Lui dicevo io? Io tuo discepolo? Beh, beh, insomma. Anche perché lui aveva un carattere estremamente particolare. Lui diceva ma sì, sì, vedrai, vedrai. Ma lui mi aveva sempre detto che in Italia servono delle donne dirigenti nell'ENS nazionale. E lui lo diceva. Perché per lui le donne erano come delle mamme. avevano un ruolo di prendersi cura degli altri come se fossero dei figli. E questo era il suo punto di vista da psicologo. E lui vedeva la donna come madre. Penso che questo sia importantissimo. Perché senza questo poi non ci sarebbero stati tutte le concatenazioni di eventi che ne sono seguite. Io ho lavorato alacremente per i sordi. Però quello che lui diceva è che a lui non piaceva dire lavorare per i sordi ma lavorare con i sordi. E io sono d'accordo con questo. Lui appunto diceva che era allergico quando vedeva persone udenti all'interno di Nens che lavoravano per i sordi e non con i sordi. Tu condividi questo suo pensiero. Tu pensi che si debba lavorare con o per i sordi? Che cosa pensi di questa sua frase? Allora, il suo punto di vista è molto vicino al mio. Lui era molto rigido. E lui riteneva che i sordi dovessero essere autonomi. Dovessero essere liberi. E dovessero essere in grado di camminare da soli. E decidere quindi da soli. Io sono sempre stata d'accordo su questo punto. Su questo punto infatti noi diciamo che abbiamo legato. Tante volte però noi discutevamo su questo tema. Perché non tutti i sordi sono in grado di vivere da soli. non tutti riescono ad essere completamente autonomi. E ancora adesso è così. Lo si vede chiaramente. Ci sono delle situazioni quasi capovolte possiamo dire. In cui sembra quasi che ci sia stato che siamo tornati indietro possiamo dire. Siamo tornati ad avere a capo gli udenti come dirigenti. Questo vuol dire che la storia non è quadrata. È come un cerchio che si ripete si ripete si ripete tutto torna. E quindi lui ai tempi aveva conosciuto molto bene il consiglio amministrativo. Il consiglio d'amministrazione e ai tempi decideva tutto il segretario generale. E il presidente i presidenti precedenti avevano seguito avevano seguito perché appunto c'era un direttore generale che decideva il tutto. Quindi diciamo che il volto che si vedeva era il suo era quello del segretario. invece i volti dovrebbero essere tanti i volti delle persone sorde che fanno parte di ENS e questo è proprio un un esempio banale. Ai miei tempi io avevo iniziato ad avere contatti in ambito politico in Parlamento con il governo con dei rappresentanti delle varie istituzioni politiche e tutte chiedevano e tutti mi dicevano sempre di Magarotto soltanto che io ero molto ingenua ero appena arrivata e di sordi ce n'erano pochi non avevano mai visto un sordo riuscire ad intervenire passare davanti agli altri quindi non pensavano che un sordo potesse essere in grado potesse avere un'identità tale per farlo potesse essere intelligente a tal punto e quindi il suo modo di affrontare le situazioni non era possiamo dire riconosciuto e quindi è per questo che si diceva parlare per i sordi e quindi io e Renato su questo è su questo che ci battevamo sul con i sordi per avere i sordi protagonisti per riuscire a fare dei progetti insieme non per i sordi perché ti fa sentire ti fa dispiacere era una situazione che non si poteva sopportare io l'ho toccato nella mia vita so cosa vuol dire anche perché io come dicevo vengo da una famiglia di udenti all'interno della quale mi si diceva sempre ma no aspetta 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 un secondo te lo spiego dopo e io in un secondo poi mi spiegavano tutto e anche quando c'erano delle varie telefonate io ero lì che aspettavo come un soldato e insomma succede una due tre volte dopodiché si esplode chiaramente però è lì che l'identità esplode e cresce è lì che si fa un salto una crescita ed è lì che appunto c'è stata questa sorta di possiamo dire punto di svolta in cui io credo che non tutti però possono arrivare all'epoca però succedeva questo e anche per questo che io ho fatto tante battaglie per riuscire ad andare avanti e quindi sì io vorrei che ci fossero delle donne rappresentanti al potere però non è solo la capacità di procreare di una donna la donna deve essere anche in grado di decidere di dirigere di gestire dei bilanci di non di educare i figli e mentre l'uomo non deve essere svalutato attenzione però diciamo che le donne hanno un'identità di questo tipo abbiamo proprio ce l'abbiamo nel DNA e mi dispiace dirlo ma per gli uomini è diverso e poi anche per un senso diciamo di pazienza che noi abbiamo che agli uomini talvolta manca lo si vede anche attualmente in politica le donne al governo possono essere sono i partiti migliori sono guidati dalle donne e questo dice molto sulle capacità delle donne purtroppo tanti uomini che sono poi la maggioranza non accettano questo non accettano di riconoscere la capacità delle donne di essere al potere vogliono esserlo loro e poi è quello che ho scritto anche nel mio libro sulla comunità sorda sulle donne è quello sul sondaggio che io ho fatto sulle donne sorde se sono sposate se sono sposate con degli udenti con dei sordi se sono delle donne dipendenti se lavorano non lavorano perché ai tempi quando l'avevo fatto la situazione era questa adesso qualcosa forse forse è cambiato io non ne sono sicura al 100% il fatto è che ci sono delle rinunce al lavoro ci sono delle difficoltà dal punto di vista sociale ci sono donne che si concentrano soltanto sui figli vengono fatti tanti sacrifici e quindi il ruolo della donna viene visto un po' come questo e a me piacerebbe che le donne riuscissero a fare un salto di qualità riuscissero ad essere libere perché il fatto è che gli uomini non per questo devono essere meno importanti delle donne ma ci deve essere un rapporto di fedeltà di interscambio di parità per riuscire a lavorare meglio bene io colgo questa occasione per raccogliere delle varie informazioni e per farti una domanda su Enns sicuramente tu sai che all'epoca Enns vedeva la lingua dei segni non come una vera lingua anche se un attimo ho qua delle prove il vocabolario scritto proprio da Cesare Magarotto questo è stato pubblicato nel 1996 all'epoca come si viveva la situazione perché a quell'epoca la lingua dei segni non era vista come una vera lingua poi appunto era arrivata Virginia Volterra aveva pubblicato questo libro in realtà nell'87 quindi diciamo che c'è stato un lasso di tempo di dieci anni quello è stato gestito insieme da Virginia Volterra con il CNR però ancora all'epoca Enns non era d'accordo con questo con la visione del fatto che la LIS fosse una vera lingua e quindi in quanto presidente o soltanto come persona assurda ti volevo chiedere come hai vissuto quel periodo è una storia in realtà un po' lunga io proverò a sintetizzarla il libro che è stato pubblicato nel 96 questo sì esatto quello io sono diventata presidente per la prima volta nel 95 già in realtà il lavoro era finito era stato terminato e quando sono arrivata io sapevo della storia perché ero già stata prima era presidente Giuranna per quattro anni io sono stata sua coordinatrice e momento quindi vuol dire nell'88 insomma prima i quattro anni precedenti perché poi dopo il secondo mandato io mi ero candidata come presidentessa avevo perso e in quel periodo come coordinatrice come dirigente ero stata chiamata ad essere responsabile del dipartimento di linguaggio e comunicazione quello era il nome e all'epoca c'era già una convinzione possiamo dire che che io poi ho capito successivamente che ci fossero diciamo ci fosse diffidenza nei confronti da parte del mondo scientifico riguardo alle ricerche sulla lingua dei segni c'era già Serena Corazza c'era Elena Raduzzi c'era Anna Folchi e tanti altri che si erano approfonditi su questo io in realtà all'epoca non ero un'esperta perché io in realtà come dicevo avevo un segnato molto vicino all'italiano anche perché voi sapete che io non ho una LIS pura però iniziavo a nutrire una convinzione sul fatto che la LIS fosse una lingua con delle regole e nel dipartimento c'erano dei principi che io diciamo che io avevo sposato quindi il fatto che fosse una lingua dei segni io non ho rifiutato diciamo questo concetto inizialmente anche perché quando noi labializziamo quando noi segniamo inizialmente non labializzavamo il fatto che io diciamo ma è impossibile segnare senza labializzare com'è possibile è vero che io sono molto onesta non conoscevo benissimo tutti i segni però mi sembrava come se fosse un po' una costrizione non labializzare segnando e quindi Serena aveva iniziato a disquisire con me sull'argomento e erano iniziate delle ricerche che poi erano proseguite e avevo iniziato a ragionare poi mano a mano si erano andati avanti si erano fatti dei confronti Magarotto aveva scritto il libro sul linguaggio mimico-gestuale e diciamo che era stata come un'opera di convincimento possiamo dire Magarotto non l'aveva scritto da solo ma anche con altri sordi e d'Italia scusa per favore potresti fare la datilologia in realtà io non mi ricordo bene il suo segno nome però era una persona che appunto faceva parte del consiglio dirigenziale del direttivo e che aveva lavorato proprio al progetto riguardante il linguaggio mimico-gestuale vi ricordate appunto del gestuno quindi il suo lavoro era andato avanti io sono arrivata sono diventata presidente e ormai il prodotto diciamo che era pronto e c'era stato poi una sorta di sconto tra il linguaggio mimico-gestuale e la LIS non si è trattato veramente di uno scontro vero e proprio però diciamo che è stato un po' come in politica con destra e sinistra quindi non si andava d'accordo ma si disquisiva sull'argomento io mi sentivo fortemente in dubbio anche perché io di carattere sono molto curiosa e quindi avevo iniziato a prendere in mano il libro a leggerlo a discutere anche con persone del mondo scientifico con Elena Raduzzi con Virginia Volterra con Serena Corazza e con altre persone sorde studiose di quell'ambito come Anna Folchi per esempio e tanti altri e poi anche stranieri che già da tempo avevano fatto delle ricerche molto approfondite noi siamo arrivati tardi in questo ambito quindi le ricerche sono andate avanti mi sono informata e lì ho iniziato pian pianino a cambiare pensiero fino ad arrivare al convincimento che ci fossero delle prove che ci fossero delle regole che effettivamente la lissa è una lingua e questo io ho portato questo all'interno del consiglio e ho provato a dimostrare a spiegare che i ricercatori avevano ragione e che non si poteva negare questo perché era un qualcosa che noi dovevamo tutelare difendere perché è questo che fa ENSA difende i diritti dei sordi e quindi nei diritti dei sordi c'è anche quello di poter usare una lingua che non poi che dovesse essere il linguaggio mimico gestuale o la lissa alla fine ha vinto la lissa e noi diciamo che abbiamo sposato appunto questo la lissa la lingua dei segni italiana e però appunto è stato frutto di grandi ricerche e e quindi io mi sono fidata di quello che è successo e io devo dire che appunto la lissa non era la mia lingua madre però poi io sono stata fortunata perché comunque avevo una grande competenza in italiano e quindi per questo sono riuscita a capire come mai la lissa fosse valida avesse un valore andasse rispettata forse una lingua forte e potesse darci tanti stimoli tante possibilità dare alle persone sorde l'accessibilità e la possibilità di fare qualsiasi cosa i problemi dati adesso dalla lingua dei segni sono altri e ne parleremo dopo perché ai tempi erano altri difetti e le problematiche però poi le persone sorde si sono appropriate della lingua dei segni per avere un patrimonio culturale che poi è andato avanti nel tempo anche se poi è sempre stato nascosto questo patrimonio e quindi è per questo che dico che bisogna andare avanti e continuare a migliorare e questo non può avvenire come per magia in un attimo mi sono tornati dei dubbi anche a me adesso ti voglio fare una domanda ai tempi quando tu eri stato presidente credo che il tuo ruolo fosse stato molto difficile perché il fatto che venisse detto che la LIS non era una lingua e il fatto che ai tempi quando il libro era già stato stampato da un anno poi tu sei diventata presidentessa giusto quindi questo vuol dire che avevi iniziato a leggere ad informarti e io sono sicuro che tu abbia avuto contatto con diverse persone appunto come Serena Corazza Elena Raduzzi Anna Folchi diverse persone sorde ma anche udenti con i quali ti sei informata hai letto e quindi hai capito il valore della LIS in quanto lingua e quindi d'accordo anche con Virginia Volterra sicuramente questo è successo ma come poi sei riuscita a diffondere il concetto che la LIS fosse una vera lingua in Italia e non di diffondere il linguaggio mimico-gestuale perché come puoi esserci riuscita a convincere così tante persone in così luoghi diversi perché io credo che all'epoca questo fosse stato come dire disprezzato quindi come sei riuscita invece a convincere le persone sorde e non solo sorde ma anche le persone udenti che la LIS è una vera lingua come hai fatto a stimolarle perché all'epoca Facebook non c'era all'epoca YouTube non c'era non c'era Messenger quindi come sei riuscita con quanta energia sei riuscita a diffondere questa notizia meno male che poi appunto è stata riconosciuta come una vera lingua all'interno di Ense ma come ce l'hai fatta è è una storia estremamente lunga ai tempi appunto la tecnologia e l'accessibilità è appunto sì la tecnologia non c'era per darci accessibilità e quindi bisognava incontrarsi di persona bisognava trovarsi nelle sezioni provinciali con i soci e all'epoca i soci accorrevano tantissimi non c'era la tecnologia proprio per quello e quindi si veniva di persona si disquisiva però c'erano anche le videocassette eh sì all'epoca è VHS sì sì esatto però veramente non c'è stata un'opera di convincimento e non c'erano informazioni il fatto è che la lingua dei segni c'era già eravamo noi che non ce ne eravamo ancora accorti perché sì Ense aveva deciso di chiamarla linguaggio mimico gestuale era stata data questa etichetta questo nome ma è un po' come dire che se ha un figlio lo si chiama Luigi e a me Luigi non piace come nome io voglio chiamarlo Roberto ad esempio e quindi io inizio a dire lui è mio figlio Roberto però sì all'anagrafe è stato scritto Luigi ma si sono dimenticati che questo è il suo vero nome e quindi pian pianino si riesce a diffondere le informazioni dimostrando l'identità il valore di ognuno e perché non non è un linguaggio il linguaggio è un'altra cosa la lingua dei segni è un'altra e quindi le persone avevano iniziato a ragionare a capire e a non a disprezzare o rifiutare la lista e che non la conoscevano e quindi c'era un po' di diffidenza inizialmente però poi ragionando si diceva beh sì effettivamente è così ma esattamente come adesso quando c'è una novità una notizia e quindi si dice ah ma sai che è successo questo l'ha detto il presidente ah e quindi ha valore perché l'ha detto il presidente non può essere una bugia questo e quindi questo è stato il lavoro è stato questo che è stato fatto e anche presso dai dirigenti presso la sezione centrale c'è stata collaborazione c'è stato scambio e alla fine si è arrivati alla maturazione come un bambino che pian pianino cresce e matura e inizia ad assimilare informazioni a crescere a diventare più autonomo più consapevole di se stesso e di capire che ce la può fare da solo a scegliere la propria identità solo questo abbiamo ascoltato la tua testimonianza e ho letto anche i commenti dicono che dovresti scrivere un libro sulla tua storia e dovrai convincerti quando hai tempo fallo scrivi cambio domanda tu come donna sai che Lance per la prima volta nella storia ha letto una donna e quella sei tu fino adesso sei la prima l'unica e mi ricordo però la prima presidentessa della federazione mondiale dei sordi della WFD di Lisa Kaupinen che ha 81 anni e voi siete due donne per me all'epoca quando ero giovanissimo vedevo te vedevo i diacollu vedevo Lisa due donne con un grande potere che sono hanno sempre pensato in maniera positiva hanno diffuso questo pensiero voi due vi siete incontrati tu hai incontrato Lisa che emozioni hai provato all'epoca Lisa io l'ho conosciuta al convegno mondiale dei sordi la prima volta non mi ricordo forse in Austria perché io non partecipavo a tutti i convegni io mandavo dei rappresentanti perché io lavoravo qui in Italia ho incontrato Lisa per la prima volta e ci siamo guardate due donne che avevamo raggiunto questo traguardo e la prima cosa che mi ha detto è stata ma in Italia ma la tua associazione dei sordi con gli udenti che dirigono ma mandari via e un po' era vero all'epoca era così era gestito tutto dagli udenti i segretari non c'erano i segretari delle sezioni provinciali avevano tanto potere e tutti i coordinatori erano udenti i segretari provinciali erano udenti non udenti decidevano si parlavano con la sede centrale di Roma e decidevano la politica associativa legata al territorio e adesso ci siamo quasi ritornati e Lisa diceva ma dobbiamo farcela per il mondo dei sordi per la nostra identità l'identità forte di una lingua che utilizziamo dobbiamo essere forti di questo io dicevo sì certo sì e ho cominciato a discuterne le elezioni del presidente le ho vinte poi il segretario Anna Folchi no carol carol lì una donna appunto nella federazione internazionale e Serena Corazza era nel consiglio direttivo della WFD io volevo spingere questa cosa di avere più donne so che le donne contano molto sono intelligenti hanno delle capacità e si reprimono per svariati motivi e questo è un peccato Lisa io l'ho conosciuta abbiamo cominciato a discutere di politica degli statuti della WFD siamo arrivati per un momento anche a cambiare lo statuto della federazione ha trasferito la sede legale della WFD e da Roma doveva trasferirsi in vari paesi sarebbe stato scelto c'è stato uno scontro politico ma Lisa non c'era con Lisa è andata sempre molto bene il nuovo presidente sono cominciate le discussioni ma Lisa ha continuato ad avere rapporti con Roma la festa del cinquantesimo della fondazione della WFD è stata una bellissima festa è stata organizzata molto bene il mondo ci guardava c'era un ritorno a guardare con fiducia Lens e al suo lavoro e ai sordi c'era Margarotto c'era ancora fino a una lunga opera di convincimento appunto le persone hanno deciso di fare un passo indietro ci vuole del tempo per il cambiamento a volte ci vogliono degli anni per ridurre il potere del segretario generale di togliere generale e mettere nazionale adesso è ritornato generale e nazionale è stato spostato di nuovo ma ho detto prima la storia è un cerchio non si ripete non è un quadrato la storia si ripete colgo l'occasione quando io ero giovanissimo e sono passavo per Lens perché aiutavo Pigliacampo lui aveva la responsabilità del dipartimento della scuola e educazione università il segno è questo semo mi aveva chiesto di aiutarlo come assistente non so per dire comunque io volevo aiutarlo ero curioso di capire il mondo del Lens voci di corridoio dicevano ma lo sai quando Ida era stata eletta presidente voleva una stanza sua giustamente è arrivata e le hanno dato una uno stanzino e questa cosa lei non l'ha proprio mandata giù perché la sala attuale di presidenza più grande significa che appunto chi occupa quella sala era il segretario e questo è l'attuale presidente appunto Petrucci perché hai chiesto il cambio della stanza presidenziale dello stanzino a te cosa cambiava il cambio della stanza vorrevo andare un attimino all'ultima domanda quella su Lisa c'è stata per noi un'amicizia fortissima per soprattutto riguardo il riferimento alla convenzione ONU la convenzione dei diritti delle persone con disabilità 2004 fino al 2006 questi anni sono stati questo è stato il periodo di lavoro e la WFD partecipava come organizzazione non governativa una ONG si parlava di discutere alcuni articoli per esempio riguardo la lingua dei segni ai diritti alla tutela delle persone sorde delle persone sordoceche chi si impuntava proprio l'Europa l'Europa e il Vaticano erano ci davano delle difficoltà c'ero io in quel momento alla presidenza sono stata chiamata appunto per dare il mio supporto non sono andata da sola mi sono venuta sono andata con Serena Corazza che era già andata io segnavo ancora benissimo ma un po' alla volta sono riuscita a comunicare anch'io il primo incontro è stato a New York al Palazzo di Vetro c'è stata una serie di commissioni c'era la Federazione Europea dei Genitori sordi forti oralisti che combattevano contro la LIS sono state tante discussioni tante proposte alla fine sono stati inseriti questi articoli sono 5 5 articoli nella Convenzione ONU che parlano specificatamente delle persone sorde della lingua dei segni e questo raggiungimento di questo diritto è stato un grande traguardo anche la firma della Convenzione ONU io c'ero in rappresentanza del governo italiano non dell'ENS del governo italiano insieme a una persona con disabilità eravamo noi due è rimasto nella storia questo questo evento è stato un è sempre stato un bel ricordo legato a un grande lavoro infatti mi è stato anche dato un diploma al merito per l'impegno sociale e io ce l'ho appeso qui è un bellissimo ricordo e volevo dire solo questo quello dello stanzino nella stanza grande no i sordi sono sempre maliziosi non era uno stanzino tu hai visto Lens sei entrato era l'ingresso c'è subito l'ufficio del presidente adesso prima era segretario generale lo stanzino piccolo era del presidente era un po' più piccolo era più semplice dopo dieci passi c'era la stanza del direttore generale il segretario generale era molto grande era più istituzionale e io già prima di diventare presidente guardavo questa cosa e dicevo ma perché se vengono delle autorità degli onorevoli e il presidente ha una stanza più piccola e semplice ma per quale motivo dà un'impressione delle persone sorde di un certo valore come se valessero meno e questa cosa mi faceva male allora ho parlato con Cesare ho detto ma senti Cesare devi lasciare spazio alle persone sorde il presidente deve avere una stanza adesso mi piace quella stanza ma io vorrei che vedessero il presidente dell'ENS presidente sordo per quello che è una stanza adatta per capire chi veramente è il presidente io vorrei che le persone sorde appunto dessero una giusta impressione lui mi disse che non c'era nessun problema ha accettato di buon grado non si è tirato indietro non mi ha cacciato assolutamente io non sono mai questo tipo non ho mai pensato questo io volevo bene a Cesare Magarotto ha dato la vita per l'ENS veramente veramente però rimaneva una persona udente al comando e questa cosa non mi andava bene i sordi dovevano emergere dovevano emergere in tanti dovevano emergere altrimenti lasciare tutto agli udenti e lasciare che i sordi li guardino e basta non porta nessuna conoscenza come adesso per esempio nella lingua dei segni italiana a me dispiace molto che la LIS non sia in mano più alle persone sorde ma sia in mano alle persone udenti ma perché 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 capisci cosa voglio dirti la politica la televisione la radio lo spettacolo la cultura lo sport guardano tutti gli interpreti l'IS gli interpreti l'IS certo certo gli interpreti io dico sempre che sono delle figure preziose per i sordi con i sordi perché le persone sorde non possono sentire ma non devono essere davanti ai sordi stai seguendo il mio discorso Mauro è per questo appunto questa cosa che ci fossero gli udenti che parlavano per i sordi in difesa per i sordi dei sordi per i sordi non si può io potrei sembrare matta ma non mi importa io sono sicura di questo i sordi devono dire chi sono cosa vogliono dare valore all'identità alla cultura sorda devono dirlo loro non gli udenti e delegare a loro questa incombenza i sordi devono essere protagonisti la lingua dei segni dei sordi è ritornata in mano agli udenti quindi la stanza di Magarotto lui ha accettato io ho avuto il mio spazio ho potuto invitare le autorità le istituzioni sono venuti sindaci onorevoli adesso si parla di tanti contatti con la politica che prima non c'erano ma chi non conosce la storia non può parlare non deve parlare io la storia l'ho vissuta sulla mia pelle so cos'è stato fatto di grande prima sì certo delle difficoltà degli errori dei limiti certo ma sempre grandi cose i sordi erano protagonisti e questa è la cosa più importante quella di cui vado più orgogliosa sicuramente per questa intervista si vedrebbero ore e ore perché ci sono tantissime domande e spero che alla prossima occasione si potrà fare una seconda parte di questa intervista ti faccio solamente una penultima domanda Lance non c'entra niente è più privata tu hai un figlio so non so quanti ne hai che rapporto hai con i tuoi figli quando all'epoca eri presidente come parlare con i figli tu abitavi a Roma i tuoi figli vivevano con te da un'altra parte come vi organizzavate io ho un figlio un maschio udente non l'ho mai portato nella mia vita sociale lavorativa perché non volevo che fosse toccato da certe dinamiche e ho pensato fosse meglio così quando ero presidente beh è stato un grandissimo sacrificio per me vederlo poco abitare a Roma e durante la settimana lavorativa martedì mercoledì giovedì venerdì qualche volta al sabato ritornavo a casa a volte no andavo in varie sezioni incontravo altre persone seminari assemblee qualche volta delegavo vedevo mio figlio veramente veramente poco oggi vabbè mio figlio mi racconta e mi racconta che ha sentito molto la mia mancalza io mi sento un po' in colpa adesso è grande è cresciuto bene grazie a Dio è cresciuto bene è cresciuto bene il ragazzo quanti anni ha adesso? siamo in buoni rapporti siamo solo noi due adesso lui non vive con me ha una compagna e vive in un'altra città lavora io sono qui sono solo ma grazie alla tecnologia posso incontrare posso incontrarlo continuamente tutte le sere ma allora non era così la tecnologia non c'era è stato un grande sacrificio non avrei potuto fare altri figli avevo già trentamila figli sordi dovevo occuparmi anche di loro erano fratelli sorelle quanti anni ha tuo figlio? quarantuno ah un anno più grande di me ultima domanda io mi ricordo che nel tuo periodo di presidenza avevi un cane un barboncino io sono un amante degli animali e mi ricordo che tu avevi il cane sempre sotto la scrivania ed era sempre insieme a te che rapporto avevi con il tuo cane? ho avuto fino adesso cinque cani il barboncino è stato il terzo era piccolo era facile quindi da trasportare per me era mio non l'ho mai mai lasciato hanno un carattere molto particolare i barboncini era sempre insieme a me sempre sempre lo portavo a Roma stava sempre buono sotto la scrivania quando avevo bisogno lo portavo a fare una passeggiata ma con me è sempre andato molto d'accordo i barboncini sanno distinguere le persone in qualche modo le persone buone dalle persone false hanno un sesto senso dopo sedici anni ha avuto una malattia ed è morto con me a Roma è una forte mancanza mi manca molto sedici anni insieme è una vita gli animali ti danno tutto cosa che l'uomo non ti può dare gli animali te le danno grazie grazie da Collu grazie dell'intervista che si è conclusa vuoi dire qualcosa prima di chiudere? un messaggio volentieri ai sordi italiani la situazione non è delle migliori c'è tanta stanchezza tanto malcontento tanta sofferenza siamo tanto tanto divisi tante persone chiedono aiuto ma chiedere aiuto significa che qualcosa manca se chiedi aiuto e penso che se fossimo più legati saremo più forti dobbiamo chi è che tutela i sordi? i sordi prendete la vostra vita e fatene diventare un capolavoro l'identità non ve la dovete far rubare difendete la lingua dei segni difendete la vostra cultura difendete le vostre capacità lottate per i diritti umani perché i sordi sono fratelli e sorelle non devono essere divisi i diritti non hanno colore hanno solo forza questo è l'augurio di andare avanti in questo percorso e diventare tutti più forti per il futuro soprattutto buon anno 2021 buon 2021 questo segno è un auspicio per tutti quelli che lavorano con i sordi non per i sordi con i sordi un auspicio per costruire un percorso per le nuove generazioni future è un augurio di buon anno grazie buon anno anche a te buon anno Ida Collu adesso spengo il tuo video grazie del tuo tempo del tempo che hai dato a tutti noi grazie mille grazie grazie a voi per questa occasione che mi avete dato perché per me raccontare non è stato semplice però spero che questa sia stata una possibilità per far arrivare un messaggio per far conoscere più in profondità Ida Collu perché la conoscono alcuni la conoscono poco confermo confermo grazie grazie ciao un abbraccio questa intervista con Ida Collu si è chiusa la prossima intervista con una psicologo udente francese lui in Francia è molto amato perché come ha detto la Collu i sordi non devono essere dietro le persone udenti ma davanti si parla di persone sorde quindi questa persona ha sempre lavorato dietro eppure è un dottore eppure ha sempre lavorato dietro le persone sorde spingendole in prima fila e seguendole in Francia la Francia crede molto in lui e noi appunto stiamo lavorando per capire come funziona questa traduzione perché lui conosce benissimo la lingua dei segni francese e la lingua dei segni la lingua internazionale lingua dei segni internazionale bisogna vedere se preferisce in internazionale o in lingua dei segni francese quindi stiamo trovando un modo abbiamo trovato un interprete di lingua dei segni francese che traduce lingua dei segni italiana e dalla lingua italiana all'internazionale così abbiamo tre lingue quindi vi darò degli aggiornamenti su facebook o su altri canali credo la prima settimana di gennaio del 2021 con l'accusione auguro a tutti buon anno buon 2021 e grazie per i due interpreti se Sara può ritornare grazie a voi due per la disponibilità grazie a Ida Collu di nuovo un saluto a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti